In questo tutorial Pixlr Snippets, impareremo come lavorare con i livelli all'interno di Pixlrix. Puoi scegliere di mostrare o ridurre a icono all'ultimo pannello facendo clic su questa freccia. Fai clic sull'icona più in alto per vedere le opzioni di livello disponibili. Pixlrix ti consente di aggiungere livelli vuoti, livelli immagini, un livello cornice, livelli testo e anche livelli forma. Puoi anche scegliere di eseguire una ricerca di immagini o creare la tua immagine generata dall'intelligenza artificiale. Facciamo clic per aggiungere un livello di testo. Una volta selezionato il livello, puoi fare clic e trascinare per posizionarlo nella posizione desiderata. Il nostro nuovo livello di testo è ora rappresentato nel pannello dei livelli. L'ordine e la posizione dei livelli è molto importante. Se posizioniamo il nostro strato solare sopra lo strato dell'isola deserta, diventa visibile. Tuttavia, una volta per favore al di sotto di quello strato, il nostro sole scompare. Fare clic sui tre punti per visualizzare le opzioni avanzate dei livelli. Ora puoi cambiare il nome del tuo livello ed esplorare anche le varie modalità di fusione. Le modalità di fusione cambieranno il modo in cui il tuo livello interagisce con i livelli sottostanti. Splora con le diverse scelte per vedere i loro effetti. Puoi anche scegliere di bloccare un livello per proteggerlo da qualsiasi modifica. Scegli di rendere il livello visibile o nascosto. O Ora che sai come lavorare con i livelli, divertiti a creare con Pixelrix.